Eccomi Tony, sì allora andiamo subito sulla DN Kronos perché è stato trovato purtroppo senza vita il sub scomparso nella tarda serata di ieri durante una battuta di pesca all'isola di Giannutri, siamo in provincia di Grosseto. Alle 21 di ieri sera il nucleo dei sommozzatori partiva alla volta di Porto Ercole dove si imbarcava su un battello facendo rotta appunto verso l'isola proprio per la ricerca del sub un apneista scomparso durante una battuta di pesca. L'uomo è stato trovato sul basso fondale, l'uomo un fiorentino di 67 anni. Non abbiamo altri aggiornamenti significativi quindi volevo tornare nelle pagine interne dei quotidiani in Edicola Oggi perché in prima pagina c'è un richiamo delle parole pronunciate ieri da Papa Francesco, l'appello del Papa per una gestione globale sui migranti, sui flussi migratori e anche il suo grazie agli operatori. Il grido sui migranti, le parole di Papa Francesco respingere il peccato grave servono vie d'accesso sicure e regolari. La preghiera perché in mari e deserti Dio possa aprire strade di libertà e fraternità. Quindi l'attualità irrompe anche nell'udienza generale, il Papa decide di dedicare buona parte della catechesi con molti passaggi a braccio sul dramma delle migliaia e migliaia di migranti che spesso si trasforma in tragedia nel mare o nel deserto. Parole di dolore e di denuncia, quelle di Francesco sottolinea che non servono leggi restrittive o la militarizzazione delle frontiere che bolla come peccato grave l'atteggiamento di chi opera sistematicamente con ogni mezzo per respingere i migranti e loda invece le associazioni, tanti buoni samaritani che si prodigano per soccorrere e salvare i migranti feriti e abbandonati sulle rotte di disperata speranza nei cinque continenti. Abbiamo poi un'altra notizia che riguarda gli anziani ma ce la teniamo per dopo perché vogliamo collegarci questa mattina. Prendiamo un articolo pubblicato ma è stato fatto ogni giorno che è un po' a conclusione poi avremo il riassunto domani quali sono stati i focus tematici della settantaquattresima settimana liturgica nazionale sinfonia di parola arte canto e la liturgia si trasforma in vita ma noi come dire non ci limitiamo a leggere quello che riporta Stefano Tamburrini sull'avvenire di oggi ma abbiamo proprio un inviato speciale all'edizione numero 74 della settimana liturgica nazionale che si sta svolgendo a Modena. Ecco qui il pezzo che poi magari andremo a commentare dopo insieme anche perché ieri è intervenuto padre Ermes Ronchi con parole puntuali noi ci colleghiamo con il consigliere del CAL del centro azione liturgica e il professor Giuseppe Falanga. Buongiorno benvenuto prof. Buongiorno a te Paola un saluto a tutti i telespettatori. Sei a Modena e hai le tue spalle una meravigliosa opera d'arte. Sì lo splendido Duomo di Modena dove sta per concludersi l'ultima celebrazione eucaristica della settimana liturgica nazionale presieduta dall'arcivescovo di Modena Nonantola Monsignor Aerio Castellucci che è anche vicepresidente della conferenza episcopale italiana. Allora ci siamo sentiti i primi giorni di agosto per avere proprio l'anno sul tema di questa edizione numero 74. Abbiamo anche citato padre Ermes Ronchi che è appunto intervenuto ieri. E allora quali sono come dire i punti tematici che ti senti di condividere insieme a noi questa mattina? Sì Paola sapete bene tutti ormai che il tema che abbiamo trattato in questi giorni è la liturgia come vera preghiera della Chiesa. E come avete anticipato dallo studio in questi giorni si sono incastonate come due perle gli interventi di padre Ermes Ronchi che ha fatto una bellissima carrellata sul valore, il significato, la presenza, il termine preghiera sia nel primo che nel secondo testamento. Ma anche la bellissima omelia nella messa presieduta dall'arcivescovo Vittorio Viola che è il segretario del di Castero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Tutti i relatori, anche i liturgisti e i pastoralisti che sono intervenuti, certo hanno insistito sul valore e sull'importanza della preghiera. Quello che mi colpisce è che sia stato detto che la preghiera non è tanto richiesta, ma non è tanto anche richiesta e supplica di misericordia, ma è soprattutto affidare la nostra gioia, i nostri dolori, le nostre lacrime, i nostri sorrisi alle viscere di misericordia del Dio tre volte santo, del padre, del figlio e dello spirito che sta lì. E' bellissimo questa frase di Hermes Ronchi, e trasforma le nostre lacrime in perle di gioia e di luce. Che meraviglia, sicuramente queste e tante altre saranno appunto, saranno state le parole, anzi gli spunti di riflessione non solo di padre Hermes Ronchi, ma anche degli altri che sono intervenuti in questa edizione numero 74 della settimana liturgica nazionale. Quando potremmo dare, come dire, notizia dell'annuncio che poi sarà dato dell'edizione numero 75, il prossimo anno, l'anno del giubileo? Vabbè, non mi far commuovere. Sarà data tra circa un'ora e mezzo dal presidente del Cal, Monsignor Maniago, a nome del quale ringrazio tutti voi per questi collegamenti. che è il centro di azione liturgica, vi ringrazia per la vicinanza, nella speranza che possiate ritornare ad essere presenti per tutta la settimana. Ti do qualche dettaglio in più, giusto perché sono vostro inviato, dai, e perché ci vogliamo bene. Siamo tra di noi, siamo tra di noi, quindi. A Padre Pio TV e ai miei amici frati, confermo che saremo in una bellissima arcidiocesi del sud, il cui santo martire patrono è famoso in tutto il mondo. Ecco, non farmi dire altro. E non diciamo altro, non diciamo altro, probabilmente, come dire, qualche ipotesi la possiamo fare. Comunque, professor Faranga, grazie per essere stato con noi, Giuseppe, sei appunto teologo, sei consigliere del Cal, sei docente universitario e ti ringraziamo davvero per la tua puntualità anche in questi collegamenti. Ti auguriamo buona conclusione della settantaquattresima settimana liturgica nazionale a Modena e ci ritroviamo presto, così, insomma, anche per cominciare a prepararci all'edizione del prossimo anno, edizione giubilare, numero 75, ma capito che poi conclude, o meglio coincide con l'anno del giubileo. Grazie, grazie di cuore e anche buon inizio. Ciao, una gioia. A presto, grazie. Ciao, ciao, grazie. Grazie al professor Giuseppe Faranga. Allora, lasciamo un attimo, Tony, ho un paio di minuti circa? Assolutamente sì, abbiamo tempo. Bene, allora, grazie. Sempre rimanendo sull'avvenire, l'ho pronunciata prima, una notizia che riguarda quello che è successo nei giorni scorsi, la vicenda dell'escursionista 88enne che si è persa nei boschi del Varesotto il 21 agosto, era alla ricerca di funghi con suo figlio ed è sopravvissuta, ferita alle costole per quattro giorni, bevendo l'acqua delle pozze, recitando il rosario. Ebbene, questa storia ha colpito molti per la resilienza di questa donna anziana. Bisogna dire che Giuseppina Bardelli, questo è il nome della donna che vediamo appunto nell'immagine e che grazie ai soccorritori, vigili del fuoco, ma anche alla sua tempra è in buono stato di salute. È comunque un'esperta di passeggiate in montagna e questa esperienza l'ha sicuramente aiutata. Poi sul piano fisiologico, come spiegano gli esperti, in questo caso Cecilia Gulisano, che è direttore sanitario della fondazione Restelli, una importante RSA di Rola, la signora è stata fortunata perché si trovava appunto in un contesto che conosceva bene e poi ha giocato certamente un ruolo importante, il desiderio vitale, ossia la voglia di rispondere a un contesto fortemente critico con una prospettiva di vita, laddove se ti trovi in un contesto dominato dalla fatica di vivere, le cose possono avere uno sviluppo diverso. Insomma, gli anziani, come tutti, possono vivere in contesti estremi se riescono a fare di alcuni elementi degli elementi positivi. In questo caso la competenza e la capacità di ridurre i bisogni vitali e di soddisfarli sfruttando la conoscenza del contesto e una certa forza d'animo. Questo dunque ha giocato un ruolo decisivo. Nei malati terminali, aggiungono gli esperti, si attuano gli stessi meccanismi psicologici e fisici. Quindi grazie a questa bella testimonianza di forza e di vita, la signora Giuseppina Bardelli che salutiamo, magari è visto mai qualcuno, non credo lei, ma qualcuno dei suoi amici e parenti ci sta ascoltando. Ci piacerebbe magari averla in collegamento per poterla salutare e anche per poter ascoltare dalla sua viva voce proprio l'esperienza di questa grande forza d'animo e aggiungerei anche ottimismo. Vediamo se ci sono altre notizie, Toni. Non so se volevi dire qualcosa a proposito della signora Giuseppina. Mi fa ricordare me da vecchio la signora Giuseppina. Io pure mi vedo perso tra le montagne, non vedo l'ora. L'importante è poi riuscire a tornare a casa, non ti perdere. Allora, non abbiamo notizie significative, vediamo un po', ma così al volo la guardia di finanza di Catania ha sequestrato profumi contraffatti venduti come tester. È scattata una denuncia, quindi si tratta di contraffazione. Non ci sono notizie significative. Resto in studio ancora per qualche altro minuto e intanto ti restituisco la linea.